Ho lanciato un brand da 0 a 7 mila euro in neanche un mese, quindi dal 7 luglio al 6 agosto. Tutto questo usando solo una campagna su Meta, non usando retargeting, usando solo statiche e nessun video ad e soprattutto appunto partendo completamente da zero e inizialmente anche con i limiti imposti da Meta di 50 euro al giorno di spesa pubblicitaria. Ciao a tutti, sono Paolo Santanicchia, sono un Meta Ad Specialist freelance, quindi mi occupo di creare, lanciare e gestire campagne su Meta per vari clienti, soprattutto e-commerce e oggi voglio mostrarvi come ho fatto a lanciare questo nuovo brand italiano che è partito appunto il 7 luglio, completamente da zero a 7 mila euro senza base di clienti, con un progetto completamente nuovo. Il brand in questione si chiama Iconpop, si tratta di un e-commerce in cui un artista fa versioni pop art su personaggi che hanno fatto la storia in Italia o nel mondo nella cultura pop, quindi cantanti, musicisti, attori, sportivi e così via. Questo brand spedisce solo in Italia, quindi abbiamo lavorato sull'audience solo italiana e con una sola campagna e solo con il broad targeting senza nessun retargeting siamo arrivati da zero a 7 mila euro in appunto appena 30 giorni. Andiamo a vedere subito come abbiamo impostato le campagne su Meta. Ovviamente insieme a Luca Petrosino che collabora con me su questo progetto, lui si occupa più della parte Google e della gestione dell'e-commerce, siamo partiti subito con le campagne su Meta poiché appunto non c'era probabilmente tanta domanda consapevole quindi di acquistare articoli pop art, siamo partiti subito con campagne che avessero l'obiettivo di fare discovery, quindi di far conoscere il prodotto e poi successivamente abbiamo implementato campagne di brand protection, campagne Google molto più specifiche di cui io non sono la persona adatta per spiegarlo ad un livello tecnico così approfondito. Posso dirvi invece approfonditamente cosa abbiamo fatto sulle campagne Meta. Andiamo a vedere all'interno di questa campagna quali sono i test che abbiamo fatto. Siamo partiti con questi tre adset di cui appunto come vedete uno di questi è ancora attivo, in cui abbiamo testato tre angoli di comunicazioni diverse. Nella prima abbiamo testato delle frasi iconiche quindi abbiamo preso dei... abbiamo preso tre personaggi basati quasi sul nulla poiché sono tutti personaggi di fama quasi equiparabile quindi non stiamo provando solo sportivi magari quindi potevi puntare su Totti, su Maradona che hanno una P al maggiore. Stiamo parlando di tutta la cultura pop e di tutto il mondo e quindi abbiamo testato vari personaggi all'inizio. La spesa l'avevo diminuita adesso a 10 euro al giorno prima di spegnerla, ha speso 140 euro senza risultati. Ci è servito comunque come vedremo per imparare il prima possibile quali fossero gli angoli di comunicazione migliori. Abbiamo poi testato contemporaneamente in realtà uno slogan che sarebbe Better Pop Than Snob che significa che sta tutto intorno diciamo alla filosofia di Icon Pop, hanno lavorato tantissimo e molto bene sulla loro brand identity e sulla loro mission ovvero di prendere l'arte pop accessibile a tutti tramite quadri appunto che può comprare di base chiunque in Italia lavorando appunto sullo slogan del fatto che l'arte deve essere accessibile a tutti che è meglio avere dei quadri pop art piuttosto che essere snob o comunque di essere dell'alta aristocrazia quindi è un concetto un po' complicato che almeno apparentemente non ha portato risultati neanche qui e dopo 130 euro di spesa ho spento. Mentre un adset che ha molto funzionato e che sta tuttora andando con ancora la maggior parte dei acquisti secondo meta ovviamente ma come poi vedremo anche secondo i dati è questo parlare di te. Parlare di te si basa su un studio psicologico che ho fatto sulla target audience ovvero nel fatto che grazie all'arte pop di personaggi specifici che puoi scegliere tu di fatto tu hai la possibilità di creare delle pareti che possano parlare di te parlare delle tue emozioni, parlare dei tuoi ideali parlare di un'esperienza che hai fatto, di un concerto a cui sei stato di uno sportivo che ha particolarmente segnato la tua infanzia o la tua vita e come andiamo a vedere anche qui all'interno ha performato abbiamo testato di tutto, abbiamo testato Maradona anche se hanno speso pochissimo e poi vi spiegherò perché abbiamo testato vari personaggi di qualunque categoria e il più performante rimane sempre Fantozzi e qui è molto interessante e voglio spendere due parole a questo riguardo perché come vedete ho semplicemente messo una headline che non era nemmeno così tanto elaborata rispetto alle altre in cui diceva ricordi quella partita di calcio ricorda le emozioni che ti ha fatto provare quel personaggio molto semplicemente scegli l'arte che ti rappresenta questa è già, si tratta già di un'iterazione che ho fatto tramite la collection in realtà l'ad originale e che ha portato subito grandi soddisfazioni era questa, una semplice statica con scritto rivivi quelle emozioni con opere pop dei tuoi idoli un'emozione istantanea, un ricordo, una risata, un brivido quindi in cui spieghiamo che emozioni possano farti provare dei quadri appesi in casa tua molto semplice, molto io sinceramente all'inizio nemmeno avrei creduto che questa ad potesse portare acquisti in realtà per molto tempo è stata l'unica ad che ha portato acquisti sull'e-commerce e quindi è una cosa che mi ha fatto ragionare e dalla quale poi ho sviluppato dei pensieri questi pensieri sono fondamentali per qualunque meta advertiser quindi capire cosa funziona e cercare di replicarlo in particolare come l'ho replicato la prima cosa che ho fatto subito è stata creare una collection di questa immagine quindi immagine singola statica con collection in particolare come si fa? semplicemente quando vai a creare l'inserzione devi selezionare collection personalizzi l'immagine di copertina diciamo e poi fai una selezione dinamica dei prodotti da mostrare questi sono i prodotti come sono mostrate all'interno della product page quindi queste sono le foto prodotto insomma quelle che si vedono sull'e-commerce questo è l'adset che finora e tuttora performa il meglio possibile e da qui ho cercato oltre appunto a fare dei test paralleli nel frattempo che decretavo questa come vincitore ho fatto dei test paralleli ad esempio ho cercato di mettere tutte le ads che stavano appunto in quell'adset che non avevano speso budget per cercare di capire se meta ha scelto di dare il budget solo a fantozzi in quel caso perché effettivamente portava più acquisti oppure se perché pensava che avrebbe portato più acquisti ma magari questi avrebbero portato acquisti ancora maggiori si è verificato che effettivamente meta aveva ragione ha speso la maggior parte del budget su fantozzi perché fantozzi portava più acquisti e questi no si l'ho spenta a 55 euro che è relativamente basso è più bassa della cpa complessiva attuale però ho visto che non erano stati bei giorni diciamo quelli in cui ho fatto queste ads per l'e-commerce quindi ho preferito ottimizzare il budget fin da subito altri test paralleli che ho fatto sono stati quelli di Pulp Fiction ad esempio quindi ho testato la combo un bundle di Pulp Fiction speso 60 euro non ha portato acquisti secondo meta ovviamente ma come ho visto anche dai dati dell'e-commerce non ha fatto alcuna vendita abbiamo qui poi Feature Callouts che sono dei test che abbiamo fatto su un tipo di ad molto specifico che mi piace tantissimo chi mi segue da un po' lo sa che sarebbe mostrare il prodotto con intorno delle frasi che vanno a semplificare dei benefit di questi prodotti quindi ad esempio il fatto che c'è la firma dell'artista che ci sono quattro formati diversi disponibili che il quadro è pronto ad appendere e così via stessa cosa su Bud Spencer quindi abbiamo testato varie cose hanno avuto discreti risultati ma in quel periodo avevamo performance ancora migliori quindi l'ho spento anche se credo che la riattiverò visti anche come si sono evolute le cose ma questo non è assolutamente una cosa negativa perché dai feature callouts che in quel momento in cui ho lanciato l'adset era il secondo miglior adset dopo appunto quello di parlare di te che abbiamo visto prima ci ha fatto sviluppare delle iterazioni cosa sono le iterazioni? adesso lo mostro subito le iterazioni sono semplicemente delle modifiche che facciamo che faccio a delle creatività che so che hanno performato testando cose differenti ad esempio come possiamo vedere ho fatto molte iterazioni di fantozzi le vediamo una ad una qui ho utilizzato la stessa immagine che ha portato più acquisti e ho semplicemente cambiato la headline quindi ho testato se magari la cosa vincente di questa creatività fosse il prodotto il fatto che era tenuto da una persona o se era la headline e come l'avrei potuto scoprire? l'avrei potuto scoprire vedendo se quest'ad performava tanto quanto l'ad originale quindi se sì magari la cosa vincente era questa immagine se no magari l'elemento vincente era la headline più la foto quindi in particolare quest'ad ha portato tre acquisti quindi siamo assolutamente ad un costo per acquisto accettabile poi vedremo perché questo e-commerce ha dei costi per acquisto relativamente alti abbiamo provato a fare il bundle che nonostante secondo meta abbia portato zero acquisti in realtà è il secondo prodotto più venduto quindi la combo fantozzi e felini che abbiamo visto essere una combo molto vincente è appunto il secondo prodotto più venduto ed è un modo molto facile per alzare l'auvi dell'e-commerce abbiamo poi testato sempre la combo semplicemente in formato diverso abbiamo testato poi il fatto di tenere la stessa di avere lo stesso soggetto quindi la ragazza che tiene il quadro e che sta davanti ma magari testando un diverso soggetto e una diversa headline abbiamo poi testato il fatto di tenere la stessa headline lo stesso personaggio che tiene il quadro ma un soggetto diverso quindi abbiamo fatto varie variazioni per vedere e cercare di capire quale fosse l'elemento vincente poi abbiamo appunto scoperto essere fantozzi l'elemento vincente e quindi semplicemente stiamo lavorando su delle iterazioni su quello quindi sul fare delle ads ancora più specifiche e ancora più precise per quanto riguarda il linguaggio della nostra target audience quindi abbiamo testato tantissimi alcuni sono andati bene in realtà uno è andato bene altri sono andati male ma sono tutti questi 372 euro sono soldi ben spesi per capire che direzione prendere nei mesi successivi e che ci ha permesso in realtà di scalare l'e-commerce a 7.000 euro al mese con 2.000 euro di spesa quindi andiamo a vedere anche gli altri adset che abbiamo fatto in cui appunto nel frattempo apprendevo sempre di più quali fossero i comportamenti di acquisto dei nostri utenti delle nostre target audience e quali fossero magari degli elementi ricorrenti che spingessero i clienti ad acquistare i prodotti di Iconpop abbiamo fatto altri test nel frattempo abbiamo fatto il test riguardo a sfide storiche riguardo al fatto di icone del calcio che anche se ha speso poco e ha fatto un acquisto la CPA è molto buona quindi infatti sto lavorando a fare delle iterazioni a riguardo e poi anche questa che ha portato moltissime interazioni e anche moltissimi acquisti io dico moltissimi per dire 4 ma su circa 50 ordini totali 40 tracciati da Facebook 4 rappresenta il 10 poco meno del per cento dei acquisti totali e quindi sono tutti piccoli dati che sicuramente hanno una valenza statistica molto limitata rispetto a se avessimo avuto mille acquisti che però in queste fasi ci servono tantissimo per testare velocemente per capire il più velocemente possibile quali sono gli elementi vincenti delle nostre inserzioni e quali portano più fatturato all'e-commerce qui appunto abbiamo mostrato le interazioni che abbiamo fatto di Fantozzi qui abbiamo fatto invece dei test sui feature collouts se magari potessero essere utili appunto sia su Fantozzi che ho voluto mettere in questo adset specifico per avere un controllo più specifico su questo tipo di format quindi sui feature collouts di come performassero sembra non aver portato acquisto in realtà probabilmente è così però al momento siamo in una situazione sufficientemente stabile per il nostro ad account e attendo di avere più dati e più spesa per capire quali hanno portato maggiori acquisti mentre qui ho lanciato un altro test ancora un adset a parte con un suo budget in cui ho cercato di vedere se portando le ads che erano best performer che dal momento in cui ho creato l'adset erano questi due quindi Maradona e Fantozzi se portando le persone direttamente alla pagina prodotto invece che alla pagina di collection che ho voluto fare inizialmente per testare per sondare un po' il terreno le persone magari vengono attirate da una specifica immagine vedono che c'è un'intera collection riguardo a quella categoria che potrebbero essere appunto il cinema per Fantozzi lo sport per Maradona magari chi clicca sull'inserzione è interessato all'intera categoria però invece ho voluto fare un test a parte in cui volevo vedere se l'inserzione portando direttamente alla pagina prodotto se convertisse meglio al momento sembra di sì cercherò di alimentare questo adset con ulteriori creatività dei best seller così che possa andare sempre più sul sicuro e come vedete i test diventano sempre più precisi man mano che passa il tempo in un solo mese quindi in quattro settimane sono riuscito a fare dei test che siano sempre più precisi sia comunque di testare diciamo cose totalmente nuove che portano a costi per acquisto più alti ma che come appunto vi ho detto porteranno a fare considerazioni sempre più precise sempre più performanti nel tempo quindi testare sia cose totalmente nuove per trovare quella cosa vincente quell'angolo vincente quel prodotto vincente su una collezione comunque di centinaia di prodotti è importante quanto è importante fare delle iterazioni del cercare di fare dei test più minuziosi per aumentare il tasso di conversione e diminuire il costo per acquisto questo è molto importante ne parlo spesso nel mio podcast che si chiama Podcast quindi P-O-D-C-A-D-S e ultimamente anche nel mio nuovo podcast in italiano che si chiama Meta-Ads Podcast spiego spesso com'è molto importante sia fare dei test completamente nuovi per trovare magari l'ad vincente ma com'è anche importante fare delle iterazioni ovvero prendere quello che funziona testare vari headline o magari mantenere la stessa headline testando vari prodotti per vedere cosa è che funziona oppure come ho fatto io testare il link di destinazione che è una cosa di cui ho parlato almeno una volta nel mio profilo nel mio profilo Instagram ho notato che su molti account ha funzionato molto di più fare le ads che portassero alla collection page piuttosto che sulla pagina prodotto qui al momento con i pochissimi dati che ho sembra essere il contrario ma non smetterò ovviamente di testare di vedere come si comportano gli utenti poiché appunto siamo in una fase di validazione è passato solo un mese siamo in una fase di validazione in cui dobbiamo scoprire cosa piace alla audience cosa converte e che cosa acquisteranno nei prossimi mesi andiamo a vedere un po' di dati dell'e-commerce quindi abbiamo fatto un fatturato dal 7 luglio al 6 agosto di 7.000 euro con 2.600 euro spesi in totale quindi faccio vedere che è all time anzi in realtà è inclusa anche la spesa del 7 agosto mentre non sono incluse i guadagni del 7 agosto e andiamo a vedere che appunto la maggior parte il prodotto più venduto è avvenuto negli ultimi giorni il sorpasso c'è la combo per 2 Fantozzi e Filini che ha superato appunto il best seller Ugo Fantozzi più altri prodotti che hanno diciamo la stessa lo stesso volume di vendita 444 443 e così via come vedete le landing page più popolari sono le collection page poiché appunto ho fatto le ads che portassero alle collection page per vedere come si comportavano gli utenti in realtà se avessi fatto direttamente su Fantozzi probabilmente avrebbe convertito meglio come abbiamo visto ma non smetterò di testare appunto e molto semplicemente sono sicurissimo che avremo dei giorni ancora migliori andando avanti con il tempo sempre per i discorsi che vi ho fatto quindi cercherò di vedere di fare più ads magari specifiche sulla combo testando i feature collouts delle combo per esempio che può essere una combinazione ottima oppure testando magari quello che avevamo scritto su Ugo Fantozzi quindi per esempio scegli l'arte che ti rappresenta però mettendola a combo in questo modo sia testando questo prodotto su questo adset in cui appunto cerco di portare direttamente alla pagina prodotto sia facendo delle iterazioni continue su tanti altri ads che ho visto che stanno funzionando sicuramente la crescita sarà molto molto più veloce e vi parlo del valore medio degli ordini che è una cosa molto particolare poiché come vedete andiamo a dare un'occhiata all'e-commerce per darvi un po' di contesto tutti i prodotti partono da 17 euro con i micropop che sono praticamente delle calamite che attacchi semplicemente al frigorifero dove vuoi abbiamo i minipop che sono 23x23 cm maxipop 50x50 e poi abbiamo l'originale ovvero l'opera che in realtà vedete appesa alle pareti nelle nostre ads sono la versione originale che l'artista ne fa in pezzi limitati costa 1900 euro finora abbiamo avuto solo un ordine per 1900 euro che ci ha fatto circa il 30% del fatturato in particolare è stato un acquisto su Fantozzi appunto sull'originale di Fantozzi ma questo ci ha permesso anche di fare molte molte più ads come appunto avete potuto vedere ho usato solo statiche perché? perché semplicemente sto cercando di validare le mie idee quindi validare qual è il prodotto vincente qual è la scritta vincente qual è l'headline vincente l'angolo di comunicazione vincente perché questo? perché molto semplicemente possiamo farlo in maniera più veloce possiamo farlo senza spendere del budget ulteriore magari per post produzione di video oppure per fare cose particolarmente elaborate questo è molto importante è una cosa che consiglio di fare a tutti come avete visto è stato possibile scalare l'e-commerce da 0 a 7000 euro con 2600 euro di spesa che sono qualche centinaia di euro sopra il break even considerando tutti i costi è molto importante e è un mio consiglio poi ovviamente siete liberi di gestire i vostri ad account come volete ma testate più statiche possibili prima di fare dei video in particolare grazie a questa cosa e grazie a questo articolo venduto appunto stavo dicendo abbiamo la possibilità di far vedere come prepariamo gli ordini e quindi stiamo preparando dei video su come vengono fatti gli ordini su tutti i prodotti che abbiamo su magari delle viste dall'alto dell'artista che fa questi prodotti a mano e questo sarà sicuramente molto interessante perché perché sappiamo già cosa funziona sappiamo che funziona Fantozzi perché l'abbiamo avuto modo di testarlo con le statiche e faremo dei video in cui appunto l'artista firma l'originale che è stato venduto appunto di Fantozzi in cui l'artista fa altre versioni di Fantozzi magari le stampe le stampe 50x50 i minipop 23x23 e così via e questi video che sono diciamo abbastanza indirizzati su specifici personaggi e su specifici angoli di comunicazione perché magari metteremo anche delle scritte il copy sarà molto preciso su delle emozioni che abbiamo visto funzionare come può essere ad esempio scegli l'arte che ti rappresenta fai che fai in modo che le pareti parlino di te racconta una storia mostrando i tuoi idoli e così via sono tutte cose che sono state possibili sapere grazie a delle ads statiche e grazie a test e iterazioni perché appunto se non avessi fatto l'iterazione di Fantozzi magari avrei detto che ciò che funzionava era la ragazza che teneva il quadro a prescindere da quale soggetto era vedendo invece testandolo su più soggetti e testandolo di nuovo su Fantozzi ma magari aggiungendo i feature collouts magari aggiungendo altre frasi abbiamo visto invece che è Fantozzi a fare la maggior parte anche delle vendite in realtà come abbiamo visto e quindi i nostri video saranno molto più precisi e anche se spendiamo magari un po' più di budget o un po' più di tempo nel realizzare i video per fare post produzione per fare effettivamente preparare tutto in realtà sappiamo già che hanno molte chance di performare bene e di continuare a fare bei numeri nel tempo e quindi molto semplicemente soprattutto perché si tratta di una startup è molto importante validare il prima possibile e poi ottimizzare i nostri costi facendo delle ads magari più dinamiche quindi che magari convertono di più ma su ciò che sappiamo già funzionare per oggi è tutto vi ringrazio di aver guardato fino a qui spero che questo video vi sia stato utile vi ricordo che se volete scoprire di più riguardo alle meta ads ho due podcast uno in inglese e uno in italiano quello in inglese si chiama podcast p-o-d-c-a-d-s in cui intervisto i massimi esperti di meta ads e digital marketing in generale il podcast in italiano si chiama meta ads podcast che anche quello potete trovarlo su spotify sono molto attivo su instagram dove rispondo alla maggior parte dei vostri messaggi dove pubblico video giornalieri riguardo ai miei clienti sulle meta ads magari news che scopro e test che faccio sono dei video che vanno fino a un minuto e mezzo in cui vi spiego delle strategie o comunque delle cose che sono applicabili fin da subito per i vostri account su meta e vi chiedo di iscrivervi al canale di lasciare un mi piace un commento per aiutare l'algoritmo e per oggi è tutto vi ringrazio io sono Paolo Santanicchia sono meta ads specialist e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao